Ciao a tutti, ben ritrovati nel Magico Mondo di Ploppi. Come state ragazze? Spero tutto bene. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi vi voglio mostrare delle creazioni che sono state richieste da voi e che ho avuto il piacere di realizzare, quindi sono delle commissioni. Infatti, come sapete, ultimamente mi sto dedicando tantissimo alle vostre richieste e se vi va potete scrivermi su Facebook il Magico Mondo di Ploppi, su Instagram jovi-ploppi o comunque trovate tutte le info sotto nell'info box. Iniziamo subito. Vedete qui la coscle? La coscle l'ho acquistata qualche mese fa, questa insieme ad altri due panetti e finalmente ho avuto la possibilità di utilizzare questa bellissima pasta. e ho realizzato questo diorama, questa sirena in diorama e ragazzi, allora vi dico, a primo impatto la pasta è veramente morbida e infatti ho acquistato la soft. Vediamo qui sul panetto che ci sono due categorie, la soft e la medium. Vediamo, sì, riesco. Ecco, la soft e la medium. Io ho acquistato la soft perché, come sapete, quando acquisto i panetti vado proprio alla ricerca di quelli più morbidi in quanto avendo sempre le mani fredde per me è difficile modellare le paste dure, è veramente un disastro. Quindi ho preso questa qui soft e questo è il numero 14 se non sbaglio oppure l'11 e il 12 comunque dopo ve le mostro. Questo è il numero 14 allora, vi dicevo, a primo impatto la pasta si presenta comunque abbastanza lavorabile poi lavorandola ancora di più è veramente, veramente morbida quindi se avete le mani super calde non so, forse è meglio la medium anche se comunque io non l'ho mai provata vado per intuito questa è veramente morbida e nonostante abbia le mani fredde non vi nascondo che ho fatto un poco di difficoltà però, insomma, niente di insommontabile basta prenderci un po' la mano allora, visto che comunque la figura è abbastanza statica e non riesco a mostrarvi più di tanto l'elasticità di questa pasta perché comunque le sporgenze sono veramente poche a parte questo lato qui e quindi tranquillamente ve lo posso mostrare proprio per ragione di questa situazione mi sono lasciata da parte dei pezzettini di Coskley e questo io l'ho mischiato con un pochettino di premo bianco perché? perché a me piace molto per quanto riguarda le mie creazioni dare un incarnato quasi angelico quindi molto molto bianco e quindi l'ho schiarito ancora di più con il premo bianco e ho fatto anche a questo punto un esperimento per vedere cosa succedeva e la resa è veramente super elastica indipendentemente dalla presenza comunque di un'altra pasta all'interno appunto la premo e sì, confermo ciò che è stato sempre detto anche da altri creativi ovvero che la caratteristica particolare e super interessante di questa pasta è proprio l'elasticità per quanto riguarda invece quest'altro pezzettino come potete vedere ho fatto di un ricciolo e anche qui è veramente elastico poi immagino che nulla sia indistruttibile ragion per cui insomma bisogna sempre fare attenzione però a differenza delle altre paste noto una sua super elasticità questo è sicuramente confermato anche da me ora parlato della coscle vi voglio mostrare appunto le mie creazioni e vi voglio mostrare meglio nel dettaglio questa sirena che mi è stata come vi dicevo commissionata questa sirena dovrà essere rinchiusa all'interno di una campana che adesso vi andrò a mostrare ed è una campana a cristallo la faccio vedere tutto nel dettaglio questo è il retro e io lo so che sono di parte ma sono super innamorata della sua espressione ecco ha abbassato leggermente la luminosità così che possiate apprezzare meglio anche i colori e i dettagli fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate io spero tanto vi piaccia ma non è finita ovvero come vi dicevo deve essere rinchiusa all'interno di questa campana ed eccola qui questa è la campana che poi andrò a incollare eccola e niente ne sono veramente innamorata la metto così in modo tale che insomma si veda bene fatemi sapere cosa ne pensate io spero tanto che piaccia anche a voi ne sono veramente innamorata e questo mi ha aperto un mondo infatti ne farò tante altre su questa impronta ed è super sbrilluccicosa vediamo se riesco ecco qui riesco a mostrarvi meglio anche il suo interno ho lavorato tutto all'interno della campana ovviamente vediamo un po' eccola qui cosa ne pensate ploppine vi piace? spero tanto 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 di sì allora continuando sempre con le vostre richieste vi mostro delle richieste per quanto riguarda invece i ciondolini allora mi è stata richiesta Mary Poppins e adoro tantissimo quando mi date campo libero cioè nel senso che mi dite vorrei un ciondolo di Mary Poppins con lo sfondo però fai tu e lì do il meglio di me e infatti ho realizzato lo sfondo di Londra come si suol dire la silhouette no? vediamo qui il big bad insomma ho fatto il cielo stellato eccetera e poi qui in alto Mary Poppins con la sua valigia che c'è il mondo all'interno di quella valigia e il suo ombrellino che mi ha sempre fatto tanta simpatia e niente qui sotto però troviamo un simpatico pinguino che ripreso per chi ovviamente conosce ma chi non conosce la storia di Mary Poppins è ripreso dal quadro nel quale lei insieme allo spazzacamino e i bambini si tuffano e adoro sempre adorato questi pinguini col papillon eccolo qui e niente spero vi piaccia la committente è piaciuto tantissimo e ne sono stra stra felice poi sempre su richiesta è stata richiesta una cattiva in questo caso realizzato Crudelia che non avevo mai realizzato per quanto riguarda questo genere di creazione e qui al centro ispiratomi da un disegno che ho visto su Pinterest ho fatto la finestrella compongo e peggy se non mi sbaglio la fidanzata si chiama così e qui un cucciolotto ve lo avvicino vabbè è stato un patto per fare i due cagnolini all'interno io li realizzo sempre utilizzando ecco lo stavo prendendo i pennellini per quanto riguarda la nail art perché altrimenti sarebbe impossibile fare delle creazioni così piccole per chi non mi conosce magari vede per la prima volta questo video tutti gli sfondi io li dipingo con gli acrilici facendo tra virgolette un vero e proprio quadro poi sempre un'altra favola questa però già l'avevo realizzata mi è stato richiesto di riprodurla e ho realizzato cenerentola allora come sapete in genere io non realizzo non riproduco come si suol dire creazioni che hanno fatto parte di un'app però ho fatto una strappa alla regola perché insomma la committente è una fidata ploppina veramente da tanti anni e la ringrazio di vero cuore e non potevo dirle di no ragazze assolutamente e quindi ho avuto il piacere appunto di riprodurre la scena di cenerentola con i topini vediamo un po' se metti a fuoco eccoli qua il castello c'è l'abito che quelle cattivone strappano l'uccellino e lei qui in alto sempre per chi magari non mi mi conosce mi segue per la prima volta queste basi sono delle basi semplicemente in legno che io poi come vi dicevo vado a dipingere ultima richiesta questa qui sempre per il discorso che vi facevo prima di Magamago ed eccola qui e niente ragazze con questo è tutto io spero che le mie creazioni vi siano piaciute vi ricordo che qualora vogliate anche voi insomma scrivermi per avere per essere realizzate appunto delle vostre richieste non c'è problema poi ci mettiamo d'accordo basta che mi scrivete in privato e niente io vi aspetto sotto nei commenti se vi fa piacere per farmi sapere se appunto le mie creazioni vi siano piaciute per dirmi se la mia campana vi è piaciuta e spero che questo video vi sia piaciuto se così fosse lasciatemi un bel pollice in su e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao